CGL, Cisle, Will, Abruzzo saranno domani a Roma con centinaia di lavoratori della nostra regione per partecipare alla manifestazione nazionale che si terrà dalle 9 alle 14 in piazza Montecitorio. L'obiettivo è quello della salvaguardia dei posti di lavoro e la richiesta di sostegni per i lavoratori in cassa integrazione. Il lavoro è la prima emergenza, le risposte non ci sono, sono insufficienti. Sia il governo Renzi che le regioni devono prestare insieme al sindacato. In Abruzzo abbiamo 7500 che percepiscono l'indennità di mobilità in deroga e 3500 i lavoratori in cassa integrazione. Secondo le indicazioni del Ministero a fine agosto questi dovrebbero aver terminato secondo le modifiche proposte del decreto. Questo è impossibile, ci troveremo con il rischio di ulteriori licenziamenti in una fase difficilissima. Gli ammortizzatori vanno finanziati, le persone più deboli che sono uscite dal mercato del lavoro vanno sostenute, le risorse vanno trovate. È indispensabile un'azione forte, di forte mobilitazione del sindacato e delle sue strutture per sbloccare una situazione, hanno detto questa mattina in conferenza stampa i segretari delle tre confederazioni, ormai divenuta insostenibile. Abbiamo bisogno di perlomeno 82 milioni di euro, per noi questa cosa non è accettabile. Chiediamo quindi al governo Renzi che faccia la sua parte, oggi non la sta facendo. Chiediamo anche alla regione di fare forte pressione politica e chiediamo anche alla regione di intervenire immediatamente con una proposta di legge sui contratti di solidarietà e sulla formazione professionale che possono essere strumenti aggiuntivi per gestire questa fase di grave crisi del lavoro.